Finalmente una buona notizia anche per la periferia di Frascati, perché con questa determinazione dei servizi ambientali si è preso atto della situazione in cui versa la periferia ad opera di ignoranti, cafoni, incivili e quant'altro che gettano ai bordi delle strade e qui parliamo di Vicolo Pantano Secco, via Spinoretico, via Fontanile Tuscolano, via Casaldimario, via Grottidama, via Santi Apostoli, via 22 Rubbia, gettano immondizie e quant'altro, materiali e tutto. Visto che questo non è previsto nel capitolato con la Lazio Ambiente S.P.A. né con l'azienda speciale S.T.S. è stata incaricata una ditta locale, la ditta Rizzo Massimiliano, di dare una bella ripulita. Costerà circa 12.000 euro. È un primo passo, non lo so, forse sbaglio, non avevo visto in passato simile interventi di servia guardia ambientale da inquinamento, rimozione RSU, manutenzione di servo manuale e meccanico dei fossi. Io non mi ricordo di aver visto in passato queste cose. Comunque, meno male, meno male e speriamo che questa attenzione continui, ma non basta. Servirebbe, guardate, lo dico senza problemi, fosse il sindaco chi ne fa le funzioni, servirebbe un appello alla cittadinanza a vegliare e eventualmente fotografare gli zozzoni, gli zozzoni che questi atti compiano. Perché qui si parla di persone che non si sa chi siano. Ecco, cominciamo a fotografarli e alla faccia della trasparenza, alla faccia della privacy spariamoli sul web, ridicolizziamoli e mettiamoli alla gogna mediatica, perché è questo che meritano.